Io alla fusione dei comuni di Ponte dell'Olio e Vigozzone voterò sì perché mi rendo conto che oggi una formica da sola non può fare niente ma come dice una certa canzone mille formiche possono spostare il mondo intero. Una formica da sola resterà sempre una formica. Ciao a tutti.